Ma dove diamine Roma? Nico ti prego sparisci. Roma anche diamine stai facendo là dentro. È colpa tua se sto qui dentro tacci tua. Ma ancora a pensare a Vladi il russo. Che presumibilmente parlava russo, sì, e sa cerca di calmarti, dai su. Tu prima ammazzi un fottuto mafioso russo che i suoi uomini stanno venendo qui per vendere i nostri organi e tu mi dici di calmarmi. Ti ringrazio tanto cugino, ma proprio tanto oh, ti ho fatto venire qui per aiutarmi e invece ci hai condannati tutti e due. Siamo morti, siamo nella merda più nera. Esci da qui e ascolta. Vlad, il russo che cantava in russo, era odiato anche dai suoi colleghi russi praticanti di russo. Al massimo verranno qui muniti di torta al cioccolato, panna, fragole e un chianti leggermente alcolico per ringraziarmi per averlo ucciso. Nico, forse non è stata una buona idea urlarlo ai quadri di usso. Bacca di merda, avete ucciso Vlad, il russo poeta di russo? Tu ora esci da lì oppure ti faccio diventare il serbo che un tempo parlava serbo. Maledetti serbi, come vi siete permessi? Giuro che se mi libero farò uno stufato coi tuoi organi. Ora mi spieghi una sola buona ragione per cui avete ucciso Vlad, il russo che parlava russo. E perché punti me? Boh, senza motivo. Dimmi un giusto motivo per aver ucciso Vlad, il russo un tempo russo, oppure tu sarai il serbo un tempo il serbo. Ci sono 21 miliardi di ragioni per cui ho fatto bene. Dimmi un allora, serbo scappato dalla Serbia. Dunque, mi ha fatto rischiare la vita per vendicare un criceto tibetano. Maledetto come Ossi, io allevo criceti tibetani da una vita, come Ossi mancare di rispetto ai divini criceti tibetani. Ma che cazzo stai dicendo? Ma qua siete tutti col cerve... Brutto schifoso. Ora chiedi subito scusa i criceti tibetani. Non lo farò, io odio i criceti tibetani, spero che muoiano tutti. Questo è troppo, adesso ti faccio a pezzi vendi i tuoi organi alla mafia cinese. Ma che cazzo di cinematografo è questo? Che mi venga un accidenti secco che cazzo state facendo nel mio seminterrato? Sto torturando un uomo che ha offesso i criceti tibetani e ucciso Vlad il russo con cittadinanza russa. Quindi mi stai dicendo che stai torturando tramite un oggetto ideato per il taglio di legname comunemente detta sega. Un uomo che ha avuto il coraggio di uccidere Vlad il russo. Che tempo orsono parlava russo? Tu hai avuto molto di ghiandola più grande del corpo umano che gioca un ruolo fondamentale nel metabolismo e svolge una serie di processi tra cui l'immagazzinamento del glicogeno comunemente detta fegato. Che? Smettila di urlare imbecille. Smettila di emettere complesse quantità di decibel nell'aria comunemente dette urla. Devo parlare con il nostro amico tramite le mie cavità orali adatte alla dispersione di versi di solito di senso compiuto o per l'ingerimento di cibo comunemente detta bocca. Pensi di poter uccidere i miei uomini come se niente fosse? Dai su Faustin, facciamolo a pezzi e mettiamo in vendita gli organi. Zitto Dimitri, so io che fare. A me Vlad stava sull'organo genitale maschile, ragion per cui non ti ucciderò ma in cambio dovrai svolgere. Fatelo smettere. Zitto, zitto, Roman per carità di Dio, smettila di... Roman, l'hai ucciso, è ancora vivo. Ma c'era davvero bisogno di spararlo? Ma non volevi vendere i loro organi. Ma prima, ora ci servono di visti due, anzi facciamo così. Tu ci aiuti o tuo cugino muore. Ci stai? Vabbè, io vado, Dimitri spiegagli che cosa deve fare. Allora, un furgone contenente degli entai non censurati sta viaggiando per la città, ce ne sono tre, ma solo uno è quello che ci serve, devi portare gli entai e io potrò tradurli in russo, d'altronde ho imparato il giapponese da un ainu. A tuo cugino ci penso io, ho imparato medicina da un chiegiso ubriaco. E con oggi, posso dire che la giornata è iniziata veramente male. Oh, ciao a tutti ragazzi, ci siete anche voi a vedere le mie sfighe. Come va? Di sicuro meglio di me, forse mio cugino aveva ragione, ammazzare Vladi il russo che stranamente sapeva il russo non è stata una buona idea. Ma vabbè, non c'è tempo da perdere, questi altri due russi che parlano russo mi hanno concesso di vivere, ma in cambio devo recuperare immediatamente degli entai non censurati per farli tradurre da, Dimitri, il russo che traduce in russo. Come prima cosa procuriamoci una volante della polizia ergastolante, in modo tale che potremo con più facilità fermare i furgoni. Ho con me la volante della polizia ergastolante, come sono fatti questi furgoni? Ah no, non ne ho idea, senti Nico, se ti aspetti qualche tipo di supporto da me ti sbagli, tu hai il compito e tu devi sistemarlo, perciò incurati. Grazie, è molto gentile. E niente ragazzi, mi sa che dovremo girare per tutta Liberty City dell'ergastolo. Che vergogna, Nico guida per Liberty City dell'ergastolo con un'automobile della polizia ergastolante. Io gli darei l'ergastolo. Sono già abbastanza su di giri, va via. Oh oh oh, a costare, a costare, ma dove vai? Ma guarda un po', uno che non si ferma dinanzi alle forze dell'ordine, cioè ma chi mai lo farò? Aspetta. Allora, muoviti ancora e ti strappo i capelli mediante aspirapolvere prodotto in una fabbrica colombiana. Scendi da qui, devo controllare il tuo carico. Ma che diavolo di idea ti sei fatto? Io trasporto Lucerto le morte dal 1444? Ripeto, Lucerto le morte dal 1444? E non è illegale trasportare Lucerto le morte dal 1444? È illegale che gente come te sia in libertà e non in un manicomio. Vabbè signori, primo buco nell'acqua, proseguiamo mediante l'utilizzo di questo mezzo munito di motore e ruote uniti in una serie di ingranaggi comunemente detta macchina e andiamo. Arrideie, quel Faustin mi ha già contagiato con le sue idiozie. Dai, dai, a venti allora, eccolo qui. Ok, forse non è stata proprio un'ottima idea. Corriamo corriamo, non posso farmelo sfuggire. Ritorno dentro al mezzo e tu ti ordino di fermare le ruote. Oh qua si fermerà l'organo muscolare che costituisce il centro motore dell'apparato circolatorio e propulsore del sangue comunemente detto cuore. Ok, scendiamo dal mezzo e procediamo signori. Fa vedere cos'hai dietro oppure tu vedrai cos'hai dentro di te. Piano con queste minacce, io trasporto il niente, un'ultima moda di Liberty City, io sono un venditore di niente, a tutti piace comprare il niente, è un bene preziosissimo. Questi qua non sono in un manicomio perché l'intero paese è un manicomio. Vabbè, secondo buco nell'acqua, il prossimo allora sarà per forza quello corretto. Sempre seppure la matematica non si è adattata alle condizioni mentali dei cittadini di Liberty City dell'ergastolo. Fermi, non vi muovete, mettete le mani dove meno ve lo aspettate nessuno si farà male. Beh, almeno spero. Scendete da qui, o vi faccio scendere io, ma sotto terra. Ma chi diamine sei tu? Ehi, vuoi per caso prendere i nostri entai non censurati? Non succederà maledetto ohoho. Fossi in te e non ci spererei, boom boom boom. No, è stato facile come mangiare un panino con dentro prosciutto, maionese, insalata, broccoli, mortadella, Philadelphia e, ok, basta. Portiamo questo mezzo e stiamo attenti, se la polizia ergastolante dovesse fermarmi con questa roba nel furgone, mi faranno un culo grande quanto tutto il continente africano. E diciamo che è una cosa che se ne avessi la possibilità, preferirei evitare, poi non so voi. Ok, eccoci qua, meglio nascondere sta roba prima che gli ergastolatori mi trovino, sinceramente, dopo tutte le sfighe che sto passando, essere ergastolato sarebbe proprio l'ultima botta. Bene, missione compiuta. Bene, direi che ora è il momento di avvisare Dimitri. Sì, scordatevi che da ora in poi dirò il russo che parla russo, mi sono rotto di dirlo. Ah, mi ha chiamato direttamente lui, meglio così. Pronto. Dimitri sono io, ho portato gli entai non censurati nel boxer, per carità di Dio non fare battute. Ottimo lavoro Nico, ma il debito non è ancora saldato. E te pareva. Vabbè signori miei, siamo lontani anni luce da Vladil Russo un tempo amante del russo, ma sto Dimitri pure come educazione, stiamo messi come degli indigeni indiani. Presto Nico, entra qui dentro. Ammazza che bella casa. Evita di fare commenti superflui come una competizione oceanica. Faustin, ti ho portato Nico il serbo detto il serbo. Cos'è che deve fare ora? Dai su, non abbiamo tutto sto tempo. Sempre tutto di fretta, anche quella volta che dovevamo disattivare una bomba dentro un seminterrato armeno, dovresti prenderla con più calma la vita. Dico bene? No, dici malissimo, ma stai sempre a bere vodka dalla mattina alla sera, proprio non riesci ad eliminare lo stereotipo che noi russi siamo degli ubriaconi, ma com'è possibile? Eppure una volta non eri così, perché non torni quello di un tempo? Io sono sempre stato così e se fossi tu Dimitri, quello là che è cambiato? Potresti guardarti allo specchio. Anziché sparare cazzate, potresti spiegare che cosa dobbiamo fare. Dimitri, eppure io credevo che tu mi capissi. E niente, perdiamo tempo, così i nostri affari andranno tutti a quel paese. Abbiamo cose ben più importanti a cui pensare e te stai qua a dire boiate. Sì sì, adesso io bevo questa vodka scaduta. Oramai, è più facile discutere con un tacchino che con te. Allora prendi un fottutissimo tacchino no, se io non ti vado più bene, che bel ringraziamento. Sei proprio uno dotato di insufficiente intelligenza comunemente detto idiota. Ma no Faustina, la verità è che io ci tengo a te, ed è grave che mi trovo meglio a parlare con un fenicottero che con te. Capisco solo che ora devo dirigermi nel luogo concepito per l'espulsione dai nostri corpi di urina e ammassi in forma di materia organica anfibia comunemente detto cesso. Forse ho esagerato con la vodka scaduta. Ah, se vuoi sapere però cosa dovete fare, un tizio non mi ha pagato il pizzo sul suo spaccio di entaia nero, quindi, andatela e fategli capire che succede se osano fregare Faustina. Ah, finalmente ci voleva tanto a dire questo. Tutto bene ora? Dai su Dimitri, sarai un idiota ma sei pur sempre il mio miglior amico. Mi fa piacere, ma ora levati gli, dai, fallo per me. Oramai non ci sono più i sentimenti di una volta, sta andando tutto male, come quella volta che facemmo un falso passaporto nordcoreano per entrare ad Israele, e poi vicino alla frontiera avevo scoperto che Corea del Nord e Israele non si riconoscono, e fu colpa tua. Come fa ad essere colpa mia se io stesso ti diedi un passaporto falso francese e tu ti presentasti con quello nordcoreano, ma poi dove cazzo l'avevi preso un passaporto nordcoreano? Boh, non ricordo. Sta di fatto che ora levatevi dal cazzo, subito. Devo andare al cesso. Scusa se mi permetto Dimitri, ma hai pensato di mandare Faustin in una clinica psichiatrica? No tranquillo, ci avevo già provato, ma abbiamo rischiato un genocidio per portarlo, comunque ora entriamo in macchina. È chiusa, aspetta un momento. Ok, ora è possibile entrare. Bene, ora. Dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare in un negozio che vende in taia nero sfuggiti al governo Ergastolante, l'importante alla fine è non farsi fregare da laser, ossia il capo di questo posto, fra l'altro in molti dicono che lui abbia la mia stessa voce. Brutta storia, comunque ti vedo più calmo. Beh, all'inizio mi ero incazzato perché avevi ucciso un mio conoscente, ma Faustin è felice che Vlad è morto, ne aveva abbastanza di criceti tibetani. Quindi non sono l'unico. A proposito, ma come mai Faustin? Ecco, senza essere cattivo, al cervello fottuto. Purtroppo è diventato così quando ha scoperto che i peperoni non crescono sugli alberi. Bella questa, dai su, qual è il motivo reale? No, non sto scherzando, è davvero per questo. Non farò più altre domande, o mi sa che faccio la stessa fine di Faustin. Siamo arrivati, dai su, prendi l'arma Nico, ce ne sarà bisogno probabilmente. Faccio appello dell'unico mezzo che non mi ha ancora tradito. Ma gli ergastolatori non si sono accorti di sto posto? Esiste una cosa chiamata corruzione Nico, ufficialmente questo è un negozio che vende uova. Pakistane. Oh ma salve, non ci avete ancora pagato, ora andiamo a parlare. No aspetta, non ci siamo riusciti perché dovevamo pagare a dei tizi. Idiota sono io quello a cui devi pagare. È proprio una gnocca da falsbo e spaventare. Se l'asser pensa di toglierci, gli entai ha già fallito. Oh ma salve, vi state proprio divertendo e... Ehm Dimitri, non è come sembra, ecco. Abbiamo i soldi tranquillo, non te li abbiamo portati perché... No tranquillo, presto capirò dove sono finiti questi soldi, prego Nico, farne buon uso. Nico, puntagli la pistola in testa. D'accordo. Ehm Dimitri, vedi, hai presente quando il formaggio si squaglia e diventa fusso? È qualcosa di buonissimo. Osi prendermi per il culo? Nico, ci penso io. Ah no, Dimitri ok? Ti dico la verità, abbiamo buttato i soldi che dovevamo darti in prostitute, però ecco, qua ho un piccolo conto, in realtà dovevo usarli per campare ma eccoli, ma vi prego non uccidete. Ecco, spero per voi che non succeda mai più, rifatelo e io ammazzo e vendo i vostri pancreas ad un ospedale abusivo delle Canaries. Su Nico, andiamo. Ciao ciao, alla prossima. Allora Nico, come ti è sembrato? Beh, per una volta ho fatto una roba da criminale e che non avesse a che fare con criceti tibetani. Ottimo, ottimo, cavoli mi è venuto in mente che nel 92 andai a San Andreas a vedere un raduno di autotruccate e per errore feci partire l'inno sovietico a un omicazio e pensa che quando il raduno finì presi quel tizio e infilato la sua testa in un tombino. Beh, siamo proprio l'ottimo esempio di civiltà. E pensa, là a quel raduno c'era il famosissimo CJ quando non era ancora uno degli uomini più ricchi del mondo. Ah, che bell'onore, sai Dimitri, penso che io e te andremo molto d'accordo. Lo spero anch'io Nico, ci conto. Adesso andiamo da un mio amico, è uno che vende armi illegali, siccome da ora in poi faremo cose sempre più pericolose, necessiti di strumenti creati in ferro e uniti da una serie di ingranaggi e molle atte all'offendere oggetti o persone specifiche che emettono serie di pallottole normali o blindate comunemente dette armi. E va bene, ti informo che tu e Faustin avete contagiato anche me con sta cosa, ogni volta una cosa diversa. Dai su, ora prosegui dritto, questo posto si trova dietro un angolo, ecco, anni fa le armi erano vendute legalmente in normali negozi autorizzati dallo Stato, ma dopo il colpo di Stato del 2002 Laser ha chiuso i negozi e vietata la vendita di armi, ragion per cui per questo che i venditori di armi esistono sia ancora, ma devono vendere le armi nascosti. Buona sapersi, intanto siamo arrivati. Perfetto, ora prendi i soldi ed entra in quel posto di merda. Va bene, vado là dentro e prendo qualcosa di figo. Buonasera signori, sono qui per comprare un'arma. No ma guarda, ti sembra che vendiamo calzini usati da abitanti da io su a Zilan? Ti sembra che vendiamo fottuti calzini usati da abitanti da io su a Zilan? Beh, per una volta, ho detto io un'idiozia. Vabbè, vediamo un po'. Cavoli cavoli, un mitra, però non ho ancora i soldi per prenderlo, vediamo qualcosa di più economico. Ulala, cos'abbiamo qui? Un uzi, semplice, veloce, precisa, un'elevata potenza di fuoco. Ma soprattutto. Letale. Ma ancora più soprattutto bella. Ok, la compro. Alla prossima, tornerò quando avrò un po' più di soldi, dato che ora come ora posso permettermi a stento il pane. Ok, a posto, ho preso un'auzzi. Ottimo, ottimo, tranquillo Nico, se lavorerai per me, ti assicuro che farai così tanti soldi che potrei comprarti l'arsenale dell'esercito canadese. Va bene, va bene, farò del mio meglio, ora ti accompagno a casa. Grazie Nico, hai fatto bene a far fuori Vlad, ti assicuro che io e te faremo grandi cose e soprattutto non ti tradirò. Ok, a posto. Adesso facciamo una cosa, andiamo da piccolo Jacob, sperando abbia finito con quella questione di Dragon Ball Huff, ma meglio andare da lui per avere altri soldi e anche per guadagnare la sua fiducia. Ahhhh, no, 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 lascia mi andare, sono un amico di piccolo Jacob, sono un suo caro amico, ti assicuro che è così. Batman, dimmi chi non è quello che penso io. Ah no, aspetta, è quel tizio con cui avete massacrato i tizi che affermavano CF si stesse? Porca puttana, è Nico, è quel tizio di cui ti parlai, ora mi metti parli regoli. Sto già a posto così. Spero di andare d'accordo con te, io sono buono e non cattivo, te lo assicuro mediante l'uso della mia bocca. Ciao piccolo Jacob. Ciao Nico, scusami per questo malinteso. Beh, a parte questo direi che non c'è male a me, tu? Sto a posto, calzi proprio a pennello, se ti va, dovresti risolverci un problema, prego Batman, spiega a Nico la situazione. Allora in pratica mi piace non marchiare, poi che si è rimanere, ti vogliono prendermi per costruzione, ma io non vogliono, E allora io posso non prosto aiuto, e allora tu vieni qua, e ora chiedendo, senti quanti, perché ovviamente attento, se 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 i martelli ficcili, e ovviamente questo principio è successo, prima di che sono a stesse, prima c'è i romani con questa sera l'Europa, prima che gli ecchi costruisero le piramidi, ma è mio, e su questo è pari all'Argentina nel 19454, è un senso come cercare di più, perché sto dicendo, e in tutto questo è andato a poi che io rispetto ai miei principi, che non mi trovo di costanza può accompagnare solo che, 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 che. Intendi che siamo in un manicomio? Sì, ci sono... Quelli là che seguono il principio della battaglia per il cibo, vogliono usare mia grazia come un cazazazza, poiché per loro non merito di esistere, poiché magia non piace a un man, e ora tu valla un mito di mezzo, c'è segale seguibile, inventato nel non uso, e poi salmone ha fumicato, taglio, c'è morte, è possibile solo gente senza essere sicure, e poi necnica, jajjajjajj a morte sicuro a quelli... Avresti capito più un taiwanese sotto effetto di oppio, in pratica ha detto che i rispettatori del principio della battaglia per il cibo, lo vogliono morto, perché chi segui il principio opposto è automaticamente un loro nemico, d'accordo so che fare, e... Stai attento perché sono muniti di armi, vogliono uccidere Bardoman in pratica, tranquillo, vado a rovinargli il piano, a dopo signori. A dopo Nico. Hey Batman, leva sto programma di merda. Perfetto, mi chiedo se mai succederà qualcosa di normale al 100%. Vabbè, dobbiamo andare a South Boat, però è molto lontano, mi serve un taxi. Peccato non ce ne sia nessuno nel raggio di 148 chilometri. Eccolo, meno male, qualcosa di bello in sto paese ci doveva pur essere, ciao, fermati. Ma che diamina fai? Senti, non c'è tempo da perdere. Allora, dove devi andare? Portami a South Boat. Va bene, andiamo. Acquati qui, spero di non rivederti mai più, addio. Io spero di rivederti invece, però dentro una bara. Ok signori, vediamo di portare a termine questo compito che ci è stato affidato. È uno Yuri, mi raccomando non farti beccare. Oh fratello. Ah finalmente, abbiamo le armi necessarie per uccidere quello schifoso di Batman, imparerà solo così a portare rispetto al cibo, vive il principio della battaglia per il cibo e anche il suo più grande rispettatore, Big Smoke. Ok signori, è il momento per la prima volta di fare le roveste alt, quindi, fate partire anche una musica figa. Regia, entro oggi possibilmente. Ecco, ora va bene, grazie. Mi avvicino lentamente. Sfrutto l'ambiente circostante affinché non mi avvisti. Osservo da qua dietro. Estrema attenzione. Estrema concentrazione. Oh 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 oh, Roman, mi fa piacere che stai bene, ma non è il momento giusto per chiamarmi, sto rivalutando che la pallottola non ti ha ucciso. Em, mandato in coma, ok niente distrazione, non devo dimenticarmi che in questo momento sono impersonificato in Solid Nenic, per tale motivo, giravolta tattica. Ripariamoci, no, gli errori non sono ammessi, o sto qua inizierà a scappare e potrei perderlo di vista. È entrato in quell'edificio, io entrerò un po' dopo o il rumore della porta porterà inesvitabilmente al farmi scoprire. Ok top, si sta dirigendo di là, non sa che lo sto seguendo, continuiamo a seguirlo, sento che... sento che siamo vicini. Dai! Adesso dovrò scalare questo ostacolo. Probabilmente è questo il luogo dove stanno preparando l'aguato, devo muovermi o bad man ci resterà secco. È entrato in quell'edificio, applichiamo la stessa logica di prima. Ok sono dentro, sento inoltre dei passi, quindi è di sottra, dovrò seguirlo ma prestando attenzione a non farmi beccare. Ah, è ovviamente. Ho già tirato fuori la mia amica pistola. Presto mi servirà. Ancora nessuna traccia del bastardo. Saliamo queste altre scale. Presto bad man sarà morto. Ok perfetto, l'ho sentito parlare, sì, sì. Dai, dai, ok signori, è qui, è dietro questa porta. Prepariamoci a far fuoco. Ma dobbiamo farlo bene, non così, come capita. Ok, 3, 2, 1. Fuoco! E ma chi sei? Come hai osato? Ne resta ancora uno, presto morirai schifoso. Crepa crepa crepa! Ah, maledetto, ti avrà mandato quello stifoso di Batman. Ciao ciao! Ah, 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 ah. No, missione compiuta. Ma chi sono io? Ma chi sono? Un vero incapace X di 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 di. Finora stai facendo il figo, perché affronti pesci piccoli. Aspetta di affrontare i miei potentissimi ergastolatori e vedrai se farai ancora. Ehi, Nico, com'è finita con quei tizi? A posto, fra un po' vedrai passare le pompe funebri. Grandissimo Nico, ti ringrazio tanto, qualsiasi problema, puoi non esitare il mio aiuto, ciao Nico. Perfetto perfettissimo, almeno mi sto facendo un po' di amici e alleati in sta città, tutti fuori di testa, ma meglio che stare soli. Bene ragazzi, fortunatamente l'uccisione di Vlad, il russo che misteriosamente sapeva il russo, non ha portato anche alla mia di uccisione. E anzi abbiamo trovato nuovi contatti di lavoro, Faustin e Dimitri, anche loro russi che parlano russo. Infine, mio cugino è stato anche sparato, ma almeno sta bene, anche se ha rischiato di farmi sgamare. Bene ragazzi, il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi e... No, non rispondo.